Gentili telespettatori buona giornata e così spunta di nuovo l'ipotesi all'interno del Movimento 5 Stelle di una divisione del partito in due, proprio due partiti, la nascita di due partiti, da una parte i contiani e da una parte i grillini di grillo. Nel 2021 si era parlata di un'altra scissione all'interno del Movimento 5 Stelle, con Conte ci sono tutti quei parlamentari che sono arrivati a fine carriera, sapete che c'è il vincolo del secondo mandato, cosa vuol dire? Che dopo due elezioni in Parlamento non puoi fare la terza, te ne devi andare a casa tua, devi tornare da dove sei partito. Quindi tutti quelli che sono arrivati a fine corsa sono dalla parte di Conte perché Conte vuole cancellare il vincolo del secondo mandato e quindi far sì che tutti quelli non più candidabili siano di nuovo candidabili. Dall'altra parte ci sono quelli che stanno con grillo, che sono quelli che non sono ancora arrivati in Parlamento e per arrivare in Parlamento hanno bisogno che si liberino dei posti, cioè di questi qua che ne hanno fatti già due vadano via per lasciare il posto libero a loro. Quindi è una scissione eventualmente per meri interessi personali, cioè lavoro sì, lavoro no, stipendio sì, stipendio no. Non c'è nulla di ideologia, di missione, noi siamo, noi vogliamo fare. L'unica cosa è noi vogliamo rimanere a prendere lo stipendio, ma voi volete entrare, ci votate contro. Quindi è tutta una questione di opportunità personale e di stipendio, di soldi. E così i nuovi inattesi fronti che nascono all'interno del Movimento 5 Stelle alla base hanno assolutamente un tornaconto economico. Chi dice andate via lasciateci il posto e quelli che dicono no, cancelliamo il vinco del secondo mandato, noi rimaniamo e voi state fuori dal Parlamento. Quindi è una lotta per la poltrona. La poltrona è intesa non come potere, ma come soldi, come economia. Sono una ventina infatti gli eletti del 5 Stelle che eufemisticamente non hanno gradito i modi e i tempi con cui è stata annunciata la costituente 5 Stelle. L'assemblea per riformare il programma inizio ottobre. Queste sono le motivazioni ufficiali, poi quelle vere devono e si riscontrano soprattutto nei soldi. La prima riguarda la tempistica degli annunci. Abbiamo appreso dalle decisioni da un comunicato stampa, senza venire, non dico consultati, ma nemmeno messi al corrente. Spiegano diverse fonti e dicono perché escluderci e che garanzie ci sono sul sorteggio. In tre anni per le questioni politiche ci siamo affidati a votazioni di ratifica, di decisioni già prese. Per questo motivo ci sono diversi timori nel gruppo. Seconda obiezione. Anche stavolta come nel 2020 sarà la società. Avventura urbana a organizzare l'evento. Suona un po' come un déjà vu, dicono nel movimento. La nostra paura è quella di assistere a una replica degli stati generali, il cui esito alla fine è stato totalmente disatteso. E c'è chi si domanda, sono state sondate diverse società? Che dice il tesoriere al proposito? Il tesoriere, uomo vicino a grillo, si trova a dover scegliere se avvallare o meno alcune decisioni prese dai vertici contiani. Decisioni che potrebbero indebolire il garante o addirittura innescare una scissione interna. Temiamo, dicono, che possano essere stravolti i principi fondativi del movimento, senza dare una reale parola agli scritti. Siamo, serpeggia così il dubbio tra gli eletti, mentre dall'altra parte quelli che stanno con Conte dicono che sono sospetti ridicoli, siamo di fronte a un grande processo innovativo, comprendiamo che le novità possano impaurire, ma non c'è nessun colpo di mano in atto, anche perché la leadership è e resta la stessa. Così la parola scissione comincia a circolare con più insistenza. Ci si ricorda nell'anno 2021 quando Conte e Grillo furono a un passo da dividere le loro strade. Solo un sondaggio riservato all'epoca convince gli attori in causa a più miti consigli. Anche perché dividere il partito in due diventerebbero due partitini che non voterebbe quasi più nessuno. Un sondaggio che metteva in luce quanto il problema del simbolo dovesse essere importante. Gli equilibri adesso sono diversi. Allora ci fu Fico e Di Maio a fare da mediatori, oggi rimane solo Roberto Fico. E Paolo Becchi, uno degli ideologi degli inizi, dice che Conte sta portando il Cinque Stelle in un vicolo cieco e Grillo se n'è accorto, ma è meglio finirla qui questa storia. Grillo era Garibaldi, Casaleggio Mazzini, qualcosa però è mancato per compiere il nuovo risorgimento, dice l'ideologo. E poi dice anche uno con un simbolo tutto da inventare, l'altro con un nome ma con pochi volti. Quindi da una parte c'è Conte con un partito da creare e dall'altra parte c'è Grillo con il simbolo ma con pochi nomi se non quasi nessuno perché col vincolo del secondo mandato tutti quelli che venivano definiti dei big non ci sono più. e quindi rimangono dei personaggi assolutamente sconosciuti e i partiti hanno bisogno di persone invece conosciute, riconosciute. A questo punto vedremo come andrà avanti, credo che alla fine il Movimento Cinque Stelle cambierà completamente. Logo, nome e Grillo non ci sarà più. In modo da decretare la fine del Movimento Cinque Stelle come l'aveva già ipotizzata Grillo dicendo che poi quando questo movimento avrebbe raggiunto i suoi obiettivi si sarebbe dovuto sparire, dissolversi. A questo punto i suoi obiettivi in parte li aveva raggiunti dal reddito di cittadinanza perché oggi c'è ancora, il taglio dei parlamentari. L'unica cosa che non ha fatto ed era la più importante era il salario minimo. Non l'ha fatta ed è rimasto proprio il vuoto perché adesso gli altri politici c'è chi dice che lo vuole e chi dice che non lo vuole ma sembrerebbe che nessuno voglia impegnarsi per questo salario minimo. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Buona giornata e a presto.